L'inno, l'inno, tutti in piedi a cantare l'inno americano e poi l'entrata di Dalì a sul ring, con la convinzione che avrebbe vinto la grande, invece poi non è andata così, è l'unica volta che ha perso e noi siamo rimasti veramente in un momento scioccati di questo. Lì era distrutto lui, ma più che fisicamente e moralmente, tutto si sarebbe immaginato per perdere con Pfizer, questo è sicuro. E anche tutti gli scommettitori, perché c'era pieno di scommettitori lì a Bordoling, oltre a tutto il mondo della VIP americana. Lotto numero 35